Bene, benvenuti a Grezzana, c'è una sala Bodenheim stracolma, seguiranno altre persone, ci saranno davvero altri interessati, è un tema molto molto dibattuto, molto discusso, non solo in tempi recenti, già da anni si parla nel nostro territorio di lupo, perlomeno dal 2012-2013, forse anche qualcosa prima, quando ci fu il ritorno, grazie a un esemplare in particolare, Slavc, che è dalla Slovenia, fece un giro abbastanza lungo e arrivò nel nostro territorio, poi lo vedremo. Io sono Matteo Scolari, direttore dell'associazione Verona Network, che assieme al consigliere Stefano Valdegamberi della regione Veneto, ha avuto l'idea di organizzare questo incontro per cercare di approfondire il tema, per portare dei punti di vista più possibili oggettivi, ci sono molti rappresentanti della politica europea, nazionale, poi li saluto tutti, questo è il programma un po' della serata, dopo i saluti istituzionali del sindaco di casa, che tra poco vado a chiamare, ci sarà l'intervento del consigliere Valdegamberi, dopodiché il presidente dell'associazione tutela rurale Michele Corti, seguito dall'approfondimento di Giovanni Todaro, scrittore, esperto in zootecnia e veterinaria, e poi ci sarà l'intervento anche più tecnico, conclusivo, di Emanuele Perneccale della regione Veneto, dirigente che sostituisce o comunque viene in nome anche dell'assessore all'ambiente della regione Veneto, Corazzari. Verona Network è un'associazione che ha questo scopo, quello di favorire il dialogo nella convinzione che unirsi, fare rete, creare relazioni e la soluzione per affrontare le sfide del presente e del futuro e anche stasera ci sono tanti rappresentanti a più livelli istituzionali con i quali si può ragionare anche su un tema molto complesso come quello del lupo. L'associazione Verona Network è rappresentata da 62 soci istituzionali a Verona, ci siamo mossi già dal 2013 sul territorio dell'Alessinia con degli obiettivi, attraverso anche un evento che tra poco vi ricorderò, torneremo su Avosco Chiesa Nuova per gli stati generali dell'Alessinia, cerchiamo sempre di coinvolgere amministratori, imprese, cittadini, associazioni, società civile. Questa è una slide curiosa che ho voluto mettere perché di fatto segna un po' l'arrivo e il ritorno forse del lupo nelle nostre zone, alla fine di febbraio 2012 questo slab ci ha percorso quasi 900 chilometri, questo è il tragitto che ha fatto per arrivare e stabilirsi anche nell'alto piano lessinico. Saremo il 18 luglio a Bosco Chiesa Nuova al Teatro Vittoria per l'appuntamento tradizionale degli stati generali dell'Alessinia. Arturo Alberti, sindaco di Grezzana, accogliamolo con un applauso. Non vi voglio disturbare oltre perché credo che sia interessante l'argomento, mi dispiace solo che Sala Bodene sia piccola per l'intervento di stasera, poteva andare in teatro a sto punto. No, l'argomento come diceva anche Matteo è particolare, purtroppo ne stiamo anche noi subendo avvistamenti qua in fondo valle e crea qualche preoccupazione perché anche culturalmente da piccoli noi il lupo era il lupo cattivo, era il lupo nero, era il cappuccetto rosso e abbiamo questa cultura magari anche se sono animalista che porto rispetto agli animali crea qualche destabilizzazione sulla sicurezza delle persone oltre a creare difficoltà all'economia della zona perché giustamente gli allevatori e quant'altro subiscono seri danni. Quindi è giusto parlarne, è giusto confrontarsi, non credo che possa essere un argomento unidirezionale, deve essere bidirezionale parlato con tutti, discusso e capire quali possono essere gli atteggiamenti ma soprattutto i metodi per cercare di lasciare in sicurezza e evitare appunto che questi animali vengano comunque a ledere una libertà che è dell'uomo e che credo sia naturale e che possiamo portare dentro di noi. Ecco quindi anche le passeggiate che noi siamo abituati a fare alla domenica, alla sera adesso col bel tempo nei nostri boschi qualcuno li sta evitando specialmente con i nipotini, con i bambini perché la paura c'è e quando c'è paura credo che sia compito degli amministratori cercare di evitare ai propri cittadini questo tipo di drammatica situazione che si può creare e crea anche di stabilità a livello sociale. Quindi credo che stasera i relatori siano ampiamente professionalmente anche preparati per chiarirci meglio il lupo, chiarirci meglio come affrontarlo e come affrontare il problema in generale a 360 gradi per ritornare alla tranquillità che avevamo prima. Quindi grazie intanto per la partecipazione. Grazie sindaco. Dicevo la politica anche che spesso viene interpellata è rappresentata a più livelli perché oltre alla Regione Veneto porterà poi i saluti dell'assessore e il consigliere Stefano Valdegamberi, c'è in sala il consigliere Enrico Corsi, c'è l'europarlamentare Sergio Berlato di Fratelli d'Italia, abbiamo il presidente del Galbaldo Lessini e Ermano Anselmi, abbiamo il senatore onorevole Luca De Carlo, presidente della commissione ambiente al Senato e il neopresidente anche del parco naturale regionale dell'Alessinia Massimo Sauro che ci ha raggiunto. Scusate se mi sono perso nel frattempo qualche altra autorità, ripeto anche tra il pubblico molti sindaci. E allora iniziamo, parole, microfono a lei consigliere. Buonasera a tutti, io direi prima di cominciare se c'è la possibilità di aggiungere delle sedie perché stanno arrivando molte altre persone, magari adesso impegnate nelle stalle, sono i più interessati al tema. Ecco, sta arrivando anche, vedo, Flavio Tosi per Forza Italia e tra le autorità che non sono state citate. Questa serata nasce con un'idea molto concreta e il tema lupo lo conosciamo molto bene in Lessinia perché siamo stati uno delle primi territori interessati nel nord Italia e quindi abbiamo vissuto da vicino tutte quelle che sono quelle preoccupazioni e anche quei problemi che sono i primi a dover affrontarli. Poi ovviamente all'inizio si diceva tranquilli, non succede niente, tutto bene, poi ci siamo accorti che non è che non succeda niente, sta cambiando tutto l'assetto anche dell'economia montana. Io nel mio paese l'altro giorno ero fuori con delle persone, tutti avevano qualche pecora, anche non solo gli addetti, quelli che fanno gli allevatori come professione, ma persone che hanno cinque pecore, un asino, un cane, un qualcosa. Oggi è impossibile averlo. Cioè sta cambiando anche il rapporto con gli animali stessi da parte delle persone. Cioè in una famiglia in montagna che non possa nemmeno avere un cane nel cortile all'aria aperta diventa una cosa assurda, non può avere un mulo o un asino, non può avere qualche pecora, niente, perché il lupo ti capita in casa. Ecco, il tema quindi è un tema che riguarda i cittadini, la sicurezza, ma è un tema che riguarda anche l'economia, l'economia montana. Ecco, di questi anni, inutili che ripeta le cose che già sono state dette molte volte, sta di fatto che le predazioni hanno raggiunto livelli altissimi, nessuna altra parte d'Europa ha tante predazioni, tanti attacchi dal lupo, come in Italia. Eppure nei paesi che sono cosiddetti ambientalmente più evoluti del nostro, quelli che si ritengono più avanzati, anche gli ambientalisti hanno capito che ci deve essere, come dicono i latini, est modus in rebus. Ci deve essere una misura a tutte le cose. Il lupo ha il diritto di esistere, ma hanno il diritto di esistere anche l'allevamento, le persone in montagna, hanno il diritto di esistere anche tutto quell'ecosistema che il lupo lasciato creare e svilupparsi, moltiplicarsi in maniera indefinita, va a distruggere. E quindi dobbiamo cercare questo equilibrio. Purtroppo l'ambientalismo italiano non è come l'ambientalismo al di là delle Alpi. Il nostro è un ambientalismo molto ipocrita, fatto con buonismo ipocrita, fin tanto che succede agli altri, poi che non succede se stessi, cambiano tutta idea, ma che è fatto di tante contraddizioni. E le contraddizioni emergono giorno dopo giorno. Ora il lupo non è più in montagna, lo scende in pianura, l'abbiamo visto predare in questo periodo anche a San Giovanni Luppatotto, verso Valeggio. Ormai non è più un problema solo della montagna, è un problema di tutto il territorio veronese. Pensiamo al Baldo, poi anche là allevatori che mi hanno telefonato, eccetera. E c'è bisogno che la politica, così come ha fatto nei paesi d'oltre Alpe, metta un freno, non è più un animale in via di estinzione. So che poi ne parleranno i rappresentanti anche europei, saluto anche i nuovi eletti e rieletti. È un tema che so che era all'ordine del giorno, non si è riuscito a cambiare la direttiva Habitat, ma è un tema che dovrà essere ripreso in mano e affrontato con determinazione, perché da lì descendono tutti i vincoli assoluti, eccessivi, di fronte, fatti in un momento storico quando il lupo era in via di estinzione. Oggi non è più il lupo in via di estinzione, ma è l'economia montana in via di estinzione, quindi dobbiamo veramente ribaltare la protezione in altra direzione. E dicevo, in altri luoghi d'Europa, penso alla Scandinavia, che è un territorio che ha una popolazione che è tutta messa insieme, Norvegia, Svezia, eccetera, fa sì o no, penso la popolazione dell'Italia, ha enormi distese di foreste, c'erano 400 lupi e in maniera molto razionale si è deciso che sono troppi portarli a 200. In Italia, qui da lì sprendati non si sanno mai, perché non si contano per non sapere quanti sono, o fanno finta di non saperlo, alla fine abbiamo migliaia, migliaia di lupi, forse oltre 5.000, 6.000, 7.000, non si sa quanti e nessuno parla mai di contenimento di riduzione. Depredazioni hanno numeri, livelli che sono di gran lunga superiori a quelli che avvengono in Austria, in Germania, in Francia e agli là delle Alpi, eppure loro hanno approvato dei provvedimenti di contenimento applicando la deroga dell'attuale normativa habitat, di per sé molto restrittiva. Da noi c'è il modo per gestire il lupo attraverso questo piano lupo che di deroghe non ne parla, parla solo di misure di contenimento, di cercare di dissuasione, di protezione, eccetera, ma oggi diminuire il numero di lupi in Italia è di fatto impossibile. Il lupo è intoccabile, soprattutto nelle ragioni del Stato Ordinario. Abbiamo visto che dove il potere e le competenze sono in mano a Presidenti, come è stato nel Trentino, che hanno maggiore potere anche di intervento, lì comunque sono intervenuti pur minimamente, pur con tante polemiche, eccetera. Occorre rompere questo tabù, perché non è fare bene all'ambiente portare questa iperprotezione al lupo assoluta. Il lupo certamente va protetto dall'estinzione, ha diritto di vivere, ma hanno diritto di vivere tutto il contesto che è montano, che va al di là del lupo. Quindi non possiamo interpretare la protezione del lupo in maniera ideologica e assoluta. E quindi occorre avere il coraggio di fare dei provvedimenti normativi, delle leggi, come hanno fatto altrove. Poi c'è un tema, poi la prima parte del convegno tratterà due temi tecnici. La seconda sarà più un dibattito politico, dove la prima parte tratteranno i nostri relatori, due argomenti molto importanti. Il primo è il rapporto tra il lupo e l'economia rurale. Qual è l'impatto del lupo sull'economia rurale, le modifiche dell'economia rurale. La seconda parte, il secondo relatore, tratterà invece qual è storicamente, qual è stato l'impatto del lupo in termini anche di sicurezza per i cittadini. I lupi confidenti che oggi ti arrivano in casa, ormai fuori dalla porta di casa, sono lupi che nel passato sono stati molto pericolosi. In Austria, in Carinzia, un lupo che si avvicina alle case è un lupo morto. Perché? Perché dicono, poi lui trasmette, io non sono esperto, trasmette ai suoi figli l'idea che può andare ovunque, può attaccare anche il cagnolino, può attaccare anche un animale domestico, può avvicinarsi alle case e quindi diventa un lupo molto pericoloso anche per le persone. E non è vero, come finora una certa ideologia ha detto, il lupo negli ultimi 150 anni non ha mai attaccato nessuno, a parte il fatto che recentemente gli attacchi sono stati molteplici, ma non ha mai attaccato nessuno perché il lupo non c'era, non poteva attaccare. Ma se andiamo a guardare i dati storici del passato e anche quelli più recenti che stanno verificandosi anche nel nostro paese, gli attacchi ci sono anche agli umani e poi lo spiegheranno bene. Ecco, questo è il tema della serata e dopo una spiegazione tecnica, una prima parte tecnica, una seconda parte di confronto, diciamo, con la parte politica sono state chiamate al tavolo quelle più sensibili, abbiamo i partiti che rappresentano Fratelli d'Italia, Forza Italia, La Lega, c'è quei partiti che hanno tendenzialmente una sensibilità, una posizione non ideologica sul tema lupo, perché sono quelli anche al governo per vedere ai diversi livelli, sia europeo, nazionale e regionale, cosa fare? Perché fingere che non sta succedendo niente è il modo peggiore per andare avanti. Mettere la testa sotto la tavola e la paura di affrontare il tema, perché se no si è massacrati sui media, si è attaccati ovunque, fa non solo male all'ambiente, fa male anche all'economia e rischia di fare del male, non mancherà molto che farà del male anche alle persone e quindi abbiamo il dovere come amministratori di assumerci le responsabilità di affrontare questo tema con razionalità, senza emotività, senza lasciarci coinvolgere e costringere dall'emotività, perché è il classico del nostro paese Italia che altrove la posizione, le scelte vengono fatte con razionalità, ripeto, anche nel mondo ambientalista. Da noi invece c'è molta emotività, molta speculazione, diciamo, vorrei parlare anche male perché spesso di fronte a una certa cultura pseudo ambientalista ci sono tanti interessi collaterali, sta di fatto che da noi c'è la paura di decidere, noi, credo che chi è presente oggi, tutte le forze politiche qui rappresentate, sono persone che non hanno paura di decidere, capiscono qual è la situazione e credo che da oggi possiamo intraprendere un percorso concreto come la gente si aspetta, la presenza numerosa stasera è appunto il sintomo che il tema è molto sentito, siccome la gente si aspetta di scelte concrete. Questo non vuol dire andare a eliminare il lupo, ma contenerlo sì, in rapporto magari al tipologico del territorio, in rapporto a tanti, cioè va trovato un punto di incontro, non possiamo continuare a prenderci in giro, a parlare di misure di protezione o altre cose che sono semplicemente, che i fatti hanno dimostrato, sono nella grande maggioranza del tutto inutili e dispendiose, un costo per il pubblico e un danno per chi lavora. Grazie consigliere Valdegamberi, mi sposto di qua perché allora potete anche accentrarvi un po' di più, io vi do questo e se come vuole e con il telecomandino può andare avanti con le slide, quindi prego Michele Corti, appunto presidente dell'associazione, chiaramente, le serve il microfono, tenga. Buonasera, attualmente mi occupo di questa associazione a tempo pieno, che finalità ha, cercare di supportare i comitati e le associazioni locali che in tutta Italia si stanno confrontando con questo problema che è gravissimo. L'Alessinia è un caso nazionale, potrei dire mondiale, un paradosso, la situazione dove il rapporto tra predazioni di bovini e predazioni di ovini è più squilibrato è l'Alessinia, ma anche perché l'economia montana dell'Alessinia si basa sul zotenia da latte ed era un'economia forte che metteva in moto la filiera del monte veronese, insomma una bella economia che è stata già molto ridimensionata, non solo per il lupo, non siamo qui a sostenerlo, ma sicuramente anche per il lupo che aggrava delle situazioni di criticità già esistenti. Fino a un anno fa però facevo il docente all'Università di Milano e di cosa mi sono occupato per più di vent'anni di zotenia di montagna, di pascoli e negli ultimi anni anche di predazione e vi posso assicurare che dà molto fastidio uno che anche all'interno del mondo accademico tenga le parti degli allevatori. Purtroppo i miei colleghi, Università di Padua, di Milano, non solo, sono molto opportunisti e siccome i finanziamenti vanno dove i poteri forti spingono ad andare, anche nel mondo universitario ci si schiera a favore del lupo, il caro lupo. Ecco, molto rapidamente, è un ragionamento paradossale, partiamo dal parco di Yellowstone nel Wyoming, ne parlerà anche il mio collega dopo per altri aspetti. Nel parco di Yellowstone è stato fatto uno degli esperimenti, delle iniziative di reintroduzione del lupo più famose al mondo. Bene, è stato decantato in tutto il mondo come un caso di grande successo. A parte che Yellowstone è una situazione totalmente diversa dalle Alpi, 6.000 km quadrati con poco più di 1.000 abitanti. Azotenia zero, allevamenti zero. Capite che è molto più facile. Se il lupo, il lupo si è stato reintrodotto a Yellowstone, ma se il lupo varca i confini del parco può essere eliminato senza nessuna difficoltà. Una cosa interessante è che questo esempio di reintroduzione ci dicono che ha ripristinato gli equilibri naturali, c'erano troppi cervi, con troppi cervi la vegetazione soffriva e i lupi hanno reintrodotto questo meraviglioso paradiso terrestre. Innanzitutto, prima che ci fosse il parco di Yellowstone, i nativi Amerindi e i pionieri cacciavano il cervo per motivi economici, alimentari, per la pelle, e facevano un controllo sul cervo. Il problema dell'eccesso di cervi è nato con il parco di Yellowstone. Prima che, molti anni prima, i naturalisti sostenevano questa teoria del riequilibrio da parte del lupo, ma non c'erano tutti quegli studi che poi hanno cercato di dimostrarlo. In realtà, quello che i naturalisti, gli ambientalisti hanno fatto è costruire a posteriori delle teorie ammantate di scientificità per legittimare quello che era il loro desiderio. Per loro il lupo è un animale bellissimo che deve essere introdotto a tutti i costi, poi ci mettono su delle favolette sulla biodiversità, sull'equilibrio degli ambienti. È curioso vedere come nel parco di Yellowstone il lupo è stato introdotto nel 1995. Anche lì c'è un dibattito, perché gli allevatori della zona intorno al parco temevano che i lupi potessero poi sconfinare e produrre dei danni. Anche allora l'atteggiamento degli ambientalisti, dei naturalisti era quello arrogante che siamo abituati a conoscere anche noi, che conoscono molto bene gli allevatori, i malghesi e gli abitanti della Lessigna. Veniva detto che chi si opponeva al lupo lo faceva solo una base di due elementi. La paura ingiustificata, e su questo ingiustificato sarà il mio collega che vi dirà a quanto è ingiustificata la paura dell'uomo per il lupo. E sull'ignoranza. Tutto viene liquidato con il lupo si può convivere, chi non vuole farlo è ignorante o pigro, non vuole mettere in atto tutte quelle azioni che servono per difendersi dal lupo. Appena al di là del confine col Veneto c'è una malga tutta recintata, chilometri di recinzione, i lupi la saltano e anche pochi giorni fa è avvenuta una nuova predazione a danno dei bovini. Quindi potete mettere tutti i reticolati che volete ma il lupo riesce a entrare. Se anche a Yellowstone la favola del lupo che riequilibra gli equilibri ambientali è una valla e lo dicono, prima c'era un'affermazione di uno professore di ecologia di quelle parti che diceva che era semplicemente una sciocchezza dire che il lupo riequilibra gli equilibri ambientali. La storia di Yellowstone è abbastanza complessa, vi dico solo che tutto questo equilibrio non è solo tra i cervi, la vegetazione e il lupo ma c'è di mezzo anche l'orso, i castori e le trote e non posso andare oltre ma le cose sono molto più complesse del giochino che vogliono far credere gli ambientalisti. Se anche a Yellowstone, disabitata, senza attività zootecniche, il lupo non è questa miracolosa medicina per l'ambiente quelli sono i cervi morti, uccisi dal lupo, figuriamoci sulle Alpi che sono abitate da milioni di persone. L'impatto del lupo non è solo la predazione, il costo delle recinzioni, dei cani con tutto quello che conseguo in termini di controllo di questi cani, ma l'impatto del lupo è molto profondo perché incide su tutto l'ambiente rurale ambiente inteso in senso fisico, in senso sociale, soprattutto in senso ecologico. La cosa che determina il lupo è, ma non riesco a vedere, ci vuole il binocolo, quello che chi non conosce le tecniche di Pascolo a volte fa fatica a capire che profonde alterazioni degli equilibri nel sistemi tradizionali ha indotto il lupo. Rapidamente gli animali devono essere trasferiti dal Pascolo, in molte situazioni sulle Alpi, dal Pascolo diurno in stazzi notturni recintati con dentro i cani. vuol dire far camminare in più ore al giorno gli animali, vuol dire perdere ore di pascolamento, vuol dire non riuscire più a utilizzare con gli animali le aree periferiche degli alpeggi e non utilizzare le aree periferiche. Pascolare meno ore al giorno vuol dire portare via meno biomassa, consumare meno erba, vuol dire favorire l'ambranzamento del bosco. Il bosco è avanzato moltissimo anche in Lessigna che è una zona molto più favorevole dal punto di vista della giacitura dei terreni rispetto ad altre zone delle Alpi, figuratevi in altre zone dove le pendenze sono molto più importanti. Il lupo ha fatto cambiare molte tecniche di pascolamento perché i piccoli greggi di capri e di pecore che pascolavano liberamente facendo pulizia nel sottobosco, fermando l'avanzata del bosco sono sparite in molte valli, ma già da diversi anni. Hanno dovuto raggruppare dei greggi più grossi, metterli sotto la protezione dei cani, ma questo comporta danni da un punto di vista della distribuzione del pascolamento è molto meglio avere piccoli greggi separati che grandi greggi uniti. Pensate che i cani non sono solo un fastidio per i turisti, se ho tempo poi ci ritorno, ma sono un fastidio anche per la fauna. Il cane da guardia, della difesa delle greggi, ha una fortissima attitudine venatoria e quindi le covate, addio, la tipica rifauna alpina come poi vedremo, è già in crisi, ma al di là delle covate vengono anche predati caprioli, marmotte ed altri animali. Quindi ecco già un esempio abbastanza concreto di danno che indiretto, non è che il lupo produce tutti questi danni, ma per proteggersi dal lupo i pastori devono dotarsi di mute e di cani, uno non basta, ce ne vorrebbe in teoria uno ogni 100-150 pecore. Pensate i greggi transumanti che hanno 1.000, 1.500-2.000 pecore, quanti cani dovrebbero avere. Queste mute sono un pericolo per il turista, ma anche per la fauna selvatica. Come reagisce il sistema malghivo pastoralista alla presenza del lupo? Si riducono le aree pascolate, come già dicevo, perché diventano più pericolose, le aree periferiche sono più sporche, come si dice, ci sono più cespugli. Il lupo, specie quando c'è la nebbia, può nascondersi, non essere visto dal pastore dei cani e quindi attaccare in modo più subdolo e pericoloso. I sistemi estensivi che hanno mantenuto i pascoli stanno in tutte le regioni, non solo sulle Alpi, ma anche in Centro Italia. Pensate nel Centro Italia, dove l'allevamento vino da latte è molto importante, la pecora sarda la stanno mettendo da parte, stanno introducendo una pecora lacone francese che fa una marea di latte, ma lo fa con i mangimi chiusa in stalla. E tutti quei pascoli in Toscana, in Umbria, nel Lazio, che erano stati mantenuti fino ad oggi, rischiano l'abbandono. Anche sulle Alpi le razze autoctone di capo e di pecore vengono sostituite da razze d'allevamento stallino alimentate con i mangimi. Molto ecologico sostituire il pascolo con i mangimi. Molti allevamenti hanno già chiuso, il ricambio generazionale sicuramente non è incoraggiato da questa situazione. E così abbiamo il bosco che avanza, anche in una situazione come l'alissinia, favorita per molti versi, ci sono meno risorse per gli ungulati. L'ungulato, parliamo di cervidi innanzitutto, ha bisogno di avere almeno un 30% di aree all'interno delle formazioni boschive di radura, in aree con l'erba. In primavera che cosa mangiano i caprioli prima che si aprono le gemme? Mangiano i ricacci erbosi. I cervi dipendono per la loro alimentazione molto dall'erba. Se chiudiamo tutte le spazi aperti erbosi all'interno, questi animali hanno molto meno da mangiare. Il capriolo soprattutto dipende dall'orlo boschivo, dove ci sono noccioli, altri arbusti, perché ha un modo di alimentarsi che predilige quel tipo di vegetazione, di transizione tra la foresta e il prato pascolo. Aumentano anche le calamità. Questo paesaggio sembra bellissimo e lo è. C'è molta ricchezza di alimentazione per gli uccelli, le bacche dei mirtilli e di altri di altri arbusti, ma come vedete le isole di erba si stanno chiudendo completamente. Quando non c'è più uno spazio erboso il bovino non frequenta più queste aree. Il bovino non può mai mantenersi mangiando erbe alte, erbe dure, foglie, capre, pecore. Sì, quando il bovino non ha più grandi spazi aperti di erba non va più a frequentare. Quindi queste situazioni sono destinate alla chiusura totale. Prima dall'erba bassa del pascolo si sviluppano erbe alte e dure. Ovviamente un'erba alta un metro e mezzo per poter stare in piedi deve avere una struttura lignificata e quindi anche meno digeribile, meno appetita e il bestiame la tralascia. Queste mucche stanno pascolando nelle piccole aree rimaste con l'erba bassa. E poi vedete che qui Deschamps, Sercespitosa, Cardi si stanno... Questa è una situazione di un parco in Veneto, non facciamo nomi, dove il parco ha imposto un carico di pascolo bassissimo e il risultato è la trasformazione del pascolo in bosco. E quello sembra l'obiettivo degli ambientalisti. Il meccanismo, senza entrare nei dettagli, quando c'è meno asporto di biomassa, quando c'è meno spargimento di deiezioni, il terreno diventa più povero dal punto di vista nutritivo, c'è meno insolazione, c'è più umidità e i semi delle piante legnose competono efficacemente con i semi delle piante erbacee. Quindi c'è una progressione di vegetazione inevitabile. Nel giro di pochi anni un pascolo, un prato pascolo, si trasforma in un arbustetto e l'arbustetto in una boscaglia. E poi forse diventerà un bel bosco, ma tra decine di anni. Come dicevamo, i nostri pascoli, gli ambienti rurali, i paesaggi rurali storici come quello della lessigna, sono frutto di una secolare azione di pascolamento che era svolta da diverse specie animali. La lessigna è adatta per i bovini, per detto c'è l'erba alta, non è ripida, non ci sono rocce, però in tutto l'arco alpino c'è forte presenza anche in Veneto di ovini e caprini. Ma questi animali sono i primi a essere predati dal lupo. Dove non ci sono capri e pecore il lupo impara a predare anche le manze, i vitelli, come ci insegna la lessigna. Nel resto delle Alpi, diciamo, la prima vittima sono questi animali che dal nostro punto di vista, cioè da un punto di vista agroecologico e della prevenzione dei danni ambientali e delle calamità naturali, sono animali preziosi. I bovini non mangiano le erbe dure e alte, le capri riescono a tenere pulito il sottobosco perché mangiano i rami bassi, mangiano gli arbusti e questa è un'azione di prevenzione degli incendi boschivi assolutamente preziosa. L'incendio grave, quello di chioma, si sviluppa quando dall'erba secca la fiamma si trasmette attraverso gli arbusti, i rampicanti, i rami bassi, si trasmette alle chiome alte. Quando l'incendio arriva sulla chioma, arriva a temperature altissime e gli alberi muoiono. Quindi per evitare questo danno, finché il fuoco corre sul pascolo non ci sono rischi di distruzione di piante arbore. Quando l'incendio è così invece tutto lo strato verticale della vegetazione è interessato al fuoco, c'è la distruzione del bosco. E allora queste capre considerate animali nemici del bosco in realtà sono animali amici del bosco e questo dimostra come i pregiudizi cosiddetti scientifici, il lupo porta alla biodiversità non sono cose nuove. In passato ci dicevano bisogna rimboschire, le capre sono nemiche della natura, dell'ambiente. Non era vero neanche in passato. Siamo ormai, abbiamo imparato che certe menzogne travestite da scientificità sono fatte per danneggiare a certi gruppi sociali. Ci dicono che bisogna rimboschire, ma nei nostri climi il prato, il pascolo, cioè una copertura erbacea è quella che accumula più CO2. Ci fanno una testa così con questa CO2. Eppure qui si parla di per ettaro di tonnellate nel giro di anni che possono essere fissate o rilasciate nell'atmosfera di CO2 se si ha un pascolo piuttosto che una boscaglia. I pascoli che si trasformano in boschi significano perdita di CO2 nell'atmosfera. Non lo dicono. Ma perché? Perché il cittadino vede che il bosco ha una massa, una biomassa fuori terra immensa, i tronchi, le chiome. Ma sotto terra nei boschi c'è poco humus, invece nel prato c'è cento volte biomassa sotto la superficie del terreno che sopra. Ma questo non lo dicono. Andiamo al sodo? Certo. Diciamo un'altra cosa che non viene detta. La direttiva habitat del 92. Dice che il lupo è una specie rigorosamente protetta. Ma bisogna anche leggerla e vedere che sono anche protette e sono considerati prioritari e classificati secondo Natura 2000 una serie di habitat seminaturali. Cioè molte superfici a prato, a prato pascolo e persino i prati da sfalcio, sono protetti, sono considerati risorse di biodiversità. Qui c'è un elenco di formazioni erbacee, compresi le praterie montane da fieno, che vanno protetti. Perché in ogni metro quadrato ci possono essere 20 specie diverse e dove ci sono 20 specie diverse di erbe, ci sono un sacco di insetti e gli insetti alimentano gli uccelli e c'è un grosso ciclo di biodiversità. Sui caprioli abbiamo già accennato che sono le prime vittime della trasformazione del prato in bosco. Sono le seconde vittime del lupo perché la prima vittima è il valle. Dove arriva il lupo il muflone sparisce e il secondo che a sparire è il capriolo. Un mio amico toscano mi diceva qualche giorno fa nel nostro ATC venivano assegnati 160 caprioli, quest'anno ce ne hanno assegnati 14. Chi ha fatto fuori gli altri? Non i cacciatori, assassini, devastatori dell'ambiente. Gli ha fatti fuori il lupo e allora si parla tanto di patrimonio faunistico, patrimonio naturale, ma questo lupo lo sta devastando. Non sono belle le coturnici, non è bello il gallo forcello e quegli altri bellissimi, magnifici, esemplari di animali adattati perfettamente con l'ambiente alpino. Sì che sono belli, non è bello solo il lupo. Alcuni di questi uccelli sono in via di estinzione, ma gli ambientalisti se ne fregano, sono semmai i cacciatori che si preoccupano della refrazione. Quando si cessa il pascolamento un arbusto aggressivo come il rododendro copre tutta la superficie, ma in quella superficie si trova ben poco da alimentarsi per questi uccelli della tipica fauna alpina e i pulcini non riescono neanche a muoversi nell'intrico dei rami del rododendro. Vabbè, questi li faccio solo vedere. Ripeto, questi animali sono altrettanto belli e importanti del lupo. Se ci si fissa sul lupo è per una questione ideologica. Abbiamo finito e come vi dicevo, quando questo ambiente così bello viene degradato perché quando prati ventenuti, prati pascoli diventano boscaglie, ci perde la biodiversità, ci perde l'estetica, ci perde la possibilità di frequentazione e ci perde anche l'economia turistica. Quando la gente vede quei cartelli si spaventa. Molti escursionisti che arrivano vedono, attenzione pericolo, grandi cani tornano indietro. È un incentivo al turismo nelle zone montane? No, è la morte del turismo che gli ambientalisti in mala fede sostengano che il lupo incentiva il turismo. Qui a Davos hanno chiuso dei sentieri perché le mucche erano agitate per colpa dei lupi, per paura che siccome in Svizzera ci sono stati ultimamente casi di attacchi a persone escursionisti da parte delle mucche, hanno preferito chiudere il sentiero. Basta. Grazie, insomma è stata una presentazione ovviamente molto sentita, era doveroso anche dare dei riferimenti proprio dal punto di vista scientifico e avete capito insomma ciò che succede a più livelli. Adesso abbiamo l'intervento di Giovanni Todaro, poi seguirà l'intervento tecnico della Regione Veneto. Vi chiedo possibilmente di rispettare i tempi, anzi essere anche un po' più contenuti perché appunto poi seguirà anche un dibattito politico. Prego. Allora, io devo leggere qualcosa perché i dati che vi fornirò sono tratti da archivi storici, quindi non mi sto inventando niente, chi vuole va a guardarsi i vari, i vari, ok? Così? E usare anche questo, prendere i fogli un caos. Dieci? Può rimanere sentito se vuoi? No, 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 perché non sono ancora dei cari. Ci pensi tu? Ok. Per cui i dati sono storici. Allora, così va bene? Ok. Il lupo ha sempre predato l'uomo, dalla prestoria a oggi, perché è normale, dal topo al bisonte europeo era uno dei prede e gli uomini a volte si mangiano i lupi, anche i nativi americani, quindi tanto per sfatare alcune cose. Negli archivi storici italiani ci sono dati su molte migliaia di persone uccise dai lupi, ok? Vi darò un po' di dati che non vi vengono forniti, eh? Sono balle. Ok. Non sono balle perché lo dice lui. Una cosa, quando si dice persona mangiata dai lupi è perché la persona, cioè il lupo era sano, perché dovete sapere che non possono essere animali idrofobi, perché gli esemplari affetti da idrofobia non possono né bere né mangiare, dopo pochi giorni muoiono. E neanche si riuniscono in branchi di lupi idrofobi, come inventano alcuni, perché l'animale si è lontana e da solo viene scacciato. Per farvi capire i dati di un tempo, nella zona di Pavia, sempre archivi storici, no? La zona di Pavia, lo scrive il cancelliere comunale Simone del Pozzo, dal 1523 al 1530, nella sola zona di Pavia ci sono state, da lupi, 800 vittime. Il datto del Parlamento francese, 7 gennaio 1606 a Toulouse, riporta le vittime dell'anno prima, 500 vittime. Questi sono i problemi quando la proporzione di sviluppo è molto alta. Gli animalisti, e anche gli ambientalisti, dicono, ma sei talmente fesso da credere a favore il cappuccetto rosso? Vai più avanti? Vai? Ok. Questo è l'atto di morte di cappuccetto rosso. Questa è in Mademigna, uccisa vicino a Parigi, Bosco di Marcussi, il cerato di morte, i genitori, undici anni e tutto. Charles Perrault scrive, cappuccetto rosso, quattro anni dopo questa vicenda che aveva creato Scarpone. Tra l'altro, nella fiaba di cappuccetto rosso di Perrault, il cappuccetto rosso viene uccisa e mangiata. Stop! E quella dei fratelli Grimm, due secoli dopo, del cacciatore che tira fuori la bambina. Ma in Germania, perché non tedeschi, il rupo, quando i Grimm scrivono la seconda versione, è restinto da 200 anni, non lo avevano imporso. Quindi, cappuccetto rosso e storia. Andiamo avanti. Qui, Repubblica di Venezia, cerco di stringere il triennio 1597-99, C'è Agliatti, Agliatti, Giacomo Stazzolini, che comunica che i lupi in questi tre anni hanno ucciso più di 300 persone. E andiamo avanti nel salto. Comunque, considerate che qui, nel Veneto, il San Giovanni di Casarsa, per esempio, tra la fine del 1630 e l'inizio del 1932, solamente in quel paese, 12 vittime dei lupi. In altri paesi, ce ne sono tanti, ma non ve li sto a dire, ci sono a volte persino le stere. Ok, questa è la stere, davvero veronese, per l'uccisione, mentre faceva il bucato al pozzo, di Maddalena della Valle. Ce ne sono altri, Bosco Chiesa Nuova, ancora Bosco Chiesa Nuova, ancora Bosco Chiesa Nuova, una bambina. Poi, vai pure avanti, questo è un ringraziamento, la bambina, la donna si è salvata, è stata soccorsa, ma è stata fatta questa raffigurazione, è nella chiesa di Peraloro di Cadone, quindi è un caso che è andato bene. L'ultima vittima del lupo è del 1817 in Veneto, una bambina. non parlerò di dati, di soldi, di una moda enorme di soldi di cui si appropriano per questi studi, associazioni, enti e così via. Si parla di 60 milioni di euro, diciamo, negli ultimi 50 anni, che sono andati ai soliti noti. I dati vengono fatti sparire, queste sono delle uccisioni di bambini a Scolipiceno, ho dovuto procurarmi un articolo in svedese, perché quelli italiani sono spariti, 1900 esattamente. In quegli anni ci sono state morte vittime e queste vittime sono state citate non da un professo come me, ma da Giuseppe Altobello, che era un professore, ed è il massimo studioso di lupi. Per farvi capire, Altobello è quello che ha capito che il canis lupus italico è una sottospecie a parte, tanto che prima si chiamava canis lupus altobello. Ed è lo stesso che ha capito che l'orso marsicano era una sottospecie a parte, pensate di verlo, e lui riporta questi casi avvenuti. L'ultimo morto in Italia, veravanti, è del 1923, nel Mugello, una persona ucciso da un gruppo, ferita, ricoverato all'ospedale di Maladi, morto. Questo è l'articolo che non vi fanno vedere, quindi alto che 150 anni che non ci sono attacchi. Quando si parla di Europa, 1974, due bambini uccisi da una rupa. Vai avanti? Sì, sì, Spagna. Vai avanti? Ok, questi non parliamo di 150 anni fa, ma parliamo di 22 giorni dal 22 gennaio al 13 febbraio mille, cioè mi scuso, mi scuso, 2024, quest'anno, in 22 giorni in Turchia i rupi hanno ucciso tre persone in diverse occasioni e li hanno divorati. I branchi sono stati ritracciati e abbattuti, le cose vengono nascoste, c'è poco da fare. A Giaveno nel 2017, nel 2015 una persona è stata attaccata, gli indumenti stracciati sono stati dati a Life War Farms, esattamente perché è documentato, sono spariti. Due anni dopo nella stazione è stata attaccata un'altra persona, questa volta si sono fatti furbi, perché è riuscito a evitare i morsi, ma non i vestiti sono andati a pezzi, e sono stati dati direttamente a RISPRA, che è l'organismo scientifico del Ministero dell'Ambiente, che ha purato, si trattava di due rupi puri maschi. Poi c'è stato il caso di Otranto, dove un rupo attaccato, che giocava, un giorno giocava, l'altro attaccava, ha attaccato due donne, una bambina e una donna, la donna, zannata, quando l'hanno catturato, lo so per certo, perché io le fotografie della cattura, lo si vede bene, il collo non è nulla, chissà perché, dopo qualche giorno il rupo presentava una mancanza di pelo, a mo' di collare di mastino napoetano, per dire che questo era un animale socializzato, ma se voi vedete non c'è nessun segno di collare. Poi, sempre per la storia che il rupo non attacca da 150 anni, quindi non parliamo di morti in questo caso, di attacchi, Avasto, va avanti, Avasto, nell'asco di 12 mesi, da 2022-2023, una lupa, ha attaccato le persone, anche i gruppi di persone, per 15 volte e ha mandato all'ospedale 13 persone e ha tentato di predare due volte le bambine di 4 anni. Questa è una bambina di 4 anni che il padre è riuscito a trattenere, tenendola per le gambe, mentre il rupo tirava per portarla via. Quando è riuscito a bloccare il rupo, il rupo partito è attaccato un altro bambino di 4 anni che è stato trattenuto anche lui dal padre e questo alle 7 e mezza di sera mentre passava il giro d'Italia. Questo vi fa capire che quello che dicono non è vero. Ripeto, il rupo deve esserci, però deve essere gestito, gli esemplari pericolosi o troppi devono essere eliminati, abbattuti, è inutile girarci. Ormai ci sono casi in cui anche i cani da guinzaglio dentro i centri abitati vengono portati via, come è accaduto a Palombaro. Vi do pochi dati, quello di Yellowstone, questo parco meraviglioso è la metà del Veneto. Qual è la differenza? Che nel Veneto ci sono 4 milioni e 900 mila abitanti. Agli Yellowstone ce ne sono 1057, ok? Qua ci sono almeno i bovini, da quello che ho trovato, almeno 720 mila bovini in Veneto. Nel parco di Yellowstone ce ne sono zero. Eppure nel parco di Yellowstone i rupi sono 124, ma qui sono 300. Qualcosa è sfuggita di mano? Non solo, nel parco di Yellowstone gli unici rupi che erano confidenti, che si avvicinavano nel 2009 e nel 2011, visto che non reagivano nelle proiettili di gomma, li hanno abbattuti immediatamente. Qua anche i rupi di cui si diceva che si dovrebbero abbattere, niente. Pensate che il parco di, cioè, lo stato di Wyoming, che comprende il 98% del parco di Yellowstone, in tutto ha 350 rupi, nonostante in tutto Wyoming, grande quanto tutta l'Italia, tutta la Sardegna e la Sicilia, ci vivono solo 570 mila persone, eppure hanno limitato il numero 350. Sapete quanti rupi, così capite subito, il Veneto sapete quanti rupi ha? Da solo, da solo, ha lo stesso numero sommati, ha lo stesso numero di rupi di Austria, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svizzera. E invece l'Italia, considerate che in Europa il rupo è aumentato del 1800% circa, dal 1971, ma in Italia è aumentato del 4000%, tanto che l'Italia è ormai lo stato europeo in cui ci sono più rupi. Bene, l'Italia è arrivata ad avere tanti rupi quanti, sommati sempre, Albania, Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Svizzera. Tutti i rupi di questi stati sono lo stesso numero, stimato, perché sanno di più ormai, dall'indagine del 2021, di quelli che ci sono in Italia. C'è troppa gente che ci guadagna con i rupi, troppa gente che poi sono sempre gli stessi. Per cui possono fare delle campagne di informazione, mentire, perché? Perché su un RAIF il 5-10% va in comunicazione, quindi non so, 5 milioni hanno 500 mila euro per ogni RAIF e questo serve per uscire sui giornali, manipolare anche tanti giornalisti come me, insomma per fare questa attività che non meriterebbero tanto. La colpa di questa situazione è di che è anche dei sindaci, perché si sa che la tutela della pubblica incolumità è un dovere del sindaco e quindi se c'è un lupo che si aggira per il centro abitato o che attacca le persone, guardate che il sindaco di Basto non ha fatto opporre in 12 mesi neanche i cartelli con scritto attenzione non andate sulla spiaggia di notte, tutto per non dalleggiare il comparto turistico. E quindi il sindaco deve intervenire, è inutile che dica no e la regione dice no, lo Stato no, è suo dovere, quindi o si rimette o viene, secondo me deve essere denunciato. E idem le stesse cose, nelle scuole si fanno parlare cani e porci, per usare un termine scientifico, gente senza nessuna capacità o imbroglioni e questo va a formare ordre di bambini che partono con l'idea sbagliata. Ripeto, il lupo deve esserci, ma deve essere gestito. Quasi finito. Quanto mi manca? Quattro? Cinque minuti? Ok, meno. Vi faccio gli ultimi due casi di falsità. Sì, vabbè, la diga, il problema è il lupo come una diga. La diga è fatta per tenere una certa quantità d'acqua. Quando l'acqua è troppa, cosa si fa? Si aprono i scormatori e se ne fa uscire un po'. Se non lo si fa, cosa succede? La diga crolla. E' la stessa cosa per il lupo. Più ce ne sono e più è maggiore una percentuale di lupi confidenti e quindi devono essere gestiti. Le ultime due cose, così perché sono dati di interesse, si dice, mentendo, guardate che sono i cani che attaccano, ce ne sono 700 mila in Italia. E' una storiella perché anni fa il Ministero della Salute faceva una richiesta alle regioni e alle province disposero solamente in otto, fra regioni e province, solo in otto. Questi cosa hanno fatto? Hanno moltiplicato a tavolino quel numero per tutte le province e tutte le regioni. Quindi il dato è falso. Parlavano di 70-80 mila cani vaganti, che sono quelli veramente selvatici, non è vero, perché si sarebbero mangiati anche gli uccellini, 80 mila animali che si comportano come lupi. Dicono, e qui la chiudo, che sono i cani quelli pericolosi perché attaccano 70 mila persone all'anno. Altra menzogna, perché l'Associazione Medici Veterinari ha dichiarato ufficialmente per iscritto che non esiste un'epidemiologia ufficiale, sistematica delle morsicature e delle aggressioni canine, né ai danni delle persone né degli altri cani. Qui non c'è nessun dato. Questi furboni cosa hanno fatto? Hanno preso uno studio, fatto in dieci anni, che ha purato che le persone attaccate, ma anche a casa, da Cagnorino, sono state 69 mila 525, ma in dieci anni è negli Stati Uniti. Lo studio è sugli Stati Uniti, dove ci sono 83 milioni di persone, ma ve lo spacciano come 70 mila persone in un anno e in Italia. Ho chiuso. Grazie Giovanni Todaro. Allora, resti lì. Invito qui Emanuele Pernechale della Regione Veneto. Chiedo pazienza, ancora dieci minuti, poi ci sono gli interventi dei rappresentanti politici, perché la Regione Veneto è stata invitata a questo incontro. Doveva esserci l'assessore all'ambiente Cristiano Corazzari, che ha delegato il dirigente, che ci spiega insomma, cosa fa la Regione Veneto, perlomeno per affrontare il problema, dal punto di vista tecnico e non solo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Emanuele Pernechale, sono non dirigente, ma funzionario della Regione del Veneto. Porto i saluti dell'assessore Cristiano Corazzari, che non ha potuto essere qui con noi stasera. Ecco, ringrazio ovviamente tutti gli esponenti, dal locale fino a nazionale ed europeo, perché è un tema molto importante. Ringrazio chi ha organizzato questo incontro, perché è importante parlarne, è importante sensibilizzare la politica, è importante anche sensibilizzare i media presenti, perché è un tema assolutamente molto importante da affrontare ovviamente con accuratezza e con ovviamente insomma anche con buon senso in questo senso. Allora, la mia presentazione sarà una presentazione tecnica, ovviamente come Regione del Veneto. La Regione del Veneto, che anticipo già, non ha competenza esclusiva in materia, ma la competenza in questo caso è del Ministero dell'Ambiente e quindi andremo a vedere cosa stiamo facendo, cosa stiamo mettendo in campo per supportare i nostri allevatori. Io, anche se sono della Regione del Veneto, comunque abito in montagna, abito in alto piano di Asiago, tendo sempre a precisarlo e anche io ho una piccola azienda agricola. Allora, iniziamo con un aspetto storico. I precedenti interventi sono stati molto interessanti su questo e diciamo che il lupo in passato era considerato una specie nociva. Specie nociva è una specie che deve essere eradicata, quindi ha sostanzialmente tutti i metodi erano consentiti per abbatterlo, quindi non solo armi da fuoco ma anche bocconi avvelenati, fosse lupaie, qualsiasi mezzo era consentito per abbattere legalmente appunto il lupo. Alcuni stemmi dei nostri comuni veneti, ne ho riportati solo alcuni, hanno all'interno del simbolo appunto il lupo. Ad esempio il San Bartino dei Luperi era un villaggio, deriva insomma da un villaggio di cacciatori di lupi, quindi capite anche la storia istituzionale locale dei comuni veneti riportano quello che è effettivamente quello che vi sto dicendo. In Veneto vedete, questi sono appunto un lupo, l'ultimo lupo che è stato abbattuto in Veneto, siamo in Comelico, siamo le Bellunese e sostanzialmente siamo inizio novecento quando siamo nell'epoca in cui la specie era considerata appunto nociva. E cambiano poi le cose, dagli anni settanta si inizia un percorso come dire che va verso la protezione dell'animale, quindi sostanzialmente cambia la normativa, cambia la sensibilità politica, cambia la sensibilità della società e quindi si va verso a un regime di tutela della specie che porta diciamo così a bloccare quello che era l'eradicazione prima e quindi a diciamo così a tutelarlo e da lì inizia effettivamente l'espansione appunto della specie su tutta la nostra penisola. E' importante anche dirlo, ero a Belluno con il senatore De Callo durante Agrimont, c'è stato anche un abbandono della montagna, questo è il mio paese, io abito a Conco e vedete era tutto coltivato all'inizio del novecento fino a metà degli anni cinquanta quando la gente dalla montagna si sposta verso la pianura per andare a lavorare nella piccola e media di impresa, nelle grandi industrie eccetera. E quindi cosa succede? Succede che il bosco avanza, ok? Qui non c'era il lupo negli anni cinquanta, quindi avanza il bosco perché c'è stato anche un abbandono dell'agricoltura. Aumenta il bosco cosa significa? E' tutta una concatenazione di elementi, ok? Quindi la vegetazione che aumenta, la sensibilità politica di tutela dell'animale, una nuova cultura eccetera, leggi nazionali, europee, internazionali, l'aumento della fauna selvatica perché la fauna selvatica è aumentata in maniera esponenziale con l'aumento del bosco. Prima abbiamo citato i muffloni che effettivamente che questo animale qui è estinto sostanzialmente, quindi adesso con l'arrivo del lupo ci sono veramente pochi, pochi, pochi esemplari, ma sono aumentati i cinghiali. Se andate nei colli berici, ugani, in tutta la fascia pedemontana veneta, sono aumentati i cinghiali, i cervi, non ne parliamo. Quindi c'è stato un grande aumento anche della fauna selvatica. E sostanzialmente vedete solo quella che è la distribuzione del cinghiale a livello regionale, a livello regionale veneto, che è dislocato ovviamente in tutta la fascia pedemontana, in tutta la provincia del Veneto, compresi anche, vedete qui, i colli berici e ugani. Allora andiamo un po' più vicini. Sostanzialmente abbiamo visto, quindi si va verso una maggiore tutela dell'animale. Prima il direttore mostrava il percorso che ha fatto il lupo partendo dalla Slovenia. Quindi aumenta anche questa protezione e quindi il lupo sostanzialmente arriva anche in Veneto. E il primo insediamento ce l'abbiamo proprio qui, in questo bellissimo territorio che è la Lessinia. Siamo intorno al 2012, dove appunto la prima coppia si forma proprio qui, diciamo nel Veronese. E via via inizia un escalation di branchi che non solo in Lessinia, ma si spostano poi anche verso Vicentino, verso il Bellunese, verso l'Alto Bellunese, eccetera. Oggi possiamo dire che circa il 20% del territorio veneto è occupato dalla presenza del lupo. Stimiamo, possono esserci, è una stima probabilmente in difetto perché è un animale molto difficile da censire, da verificare, da fare le analisi genetiche, è molto molto difficile, questo ve lo assicuro. Tutti i video che voi vedete li vedete o fatti dalla macchina o fatti dall'abitazione di casa perché è molto difficile incontrarlo finché si va, io sono anche guida tra l'altro, quindi è molto difficile trovarlo finché si va a passeggiare e quindi capite anche la stima non è così semplice. Però di certo abbiamo sicuramente 15 branchi a livello appunto regionale e li vedete anche qui sostanzialmente elencati. non mi soffermo più di tanto però oggi la distribuzione è questa, aggiungiamo anche il rodigino perché il lupo è presente anche a Rovigo lungo il delta del Po, lungo il Po e anche con due branchi sostanzialmente anche a Rovigo. Ecco, vedete insomma anche questo pallino qui è proprio il rodigino, adesso ne possiamo aggiungere anche qua uno verso il delta del Po. Questo abbiamo già visto, un percorso di questo lupo che è arrivato qui in Lessinia nel 2012, ha fatto un sacco di chilometri, oltre mille, è un animale che a differenza dell'orso è un animale che fa enormi spostamenti, quindi quando esce dal branco si dice dispersione, fa degli spostamenti che sono veramente molto molto grandi alla ricerca del maschio e della femmina e di nuovi territori da colonizzare. A livello di predazioni, questo è un dato appunto di predazione a livello regionale, a livello di regionale del Veneto, abbiamo, ci assistiamo attorno alle 900 predazioni, ok? Quindi comprendendo bovini, ovicaprini e anche equidi e i valori economici sono questi per gli anni 20, 21, 22 sono questi qua che vedete intorno ai 300 mila euro all'anno di indennizzo che vengono dati agli allevatori. Ecco qua ho voluto elaborare, è un tema che io ci tengo particolarmente, è quindi un tema che nel senso lo affronto veramente con grande passione perché ritengo sia veramente molto importante affrontarlo a tutela, ripeto, degli allevatori. E allora qui questa mappa che abbiamo elaborato è la mappa delle predazioni che sono avvenute tra il 21 e 22 in Veneto, dove vedete che i pallini bianchi sono gli ovi caprini, mentre i pallini rossi sono i bovini che sono stati predati, quindi abbiamo georeferenziato tutte le predazioni e vedete allora questo è l'Alpago, l'Alpago è un territorio che ha grosse criticità e l'allevamento lì è esclusivamente a pecore, pecore al pagota, non ci sono bovini o poca roba e invece vedete qui la Lessigna è chiaramente interessata in maniera molto massiccia, quindi sono le due criticità che abbiamo a livello Veneto, sia in Alpago che in Lessigna, uno per gli ovi caprini e l'altro effettivamente per i bovini che sono predati. La maggior parte delle predazioni avvengono in assenza del pastore o del custode, quindi per varie ragioni, quindi non è presente sul posto e questa è la suddivisione anche di quando avvengono le predazioni, prevalentemente diciamo così di sera e di notte però possono avvenire effettivamente anche di giorno e le zone più critiche, come diceva il professore prima, sono proprio quelle marginali perché appunto lì avvengono gli attacchi e di fatti le vacche stiamo vedendo che tendono a venire vicino alla malga e lasciare le aree marginali, questo ovviamente non deve accadere. Questo è il livello di protezione, massima protezione, una specie particolarmente protetta, quindi sia a livello internazionale e a livello nazionale e regionale, è la specie, gode di massimi regimi di protezione, come regione Veneto ovviamente abbiamo delle armi che sono abbastanza limitate direi, lavoriamo molto su quello che è la dissuasione che è una delle armi che possiamo mettere in campo, l'issuasione significa sparare con proietteli di gomma ad animali confidenti, ossia animali che tendono ad avvicinarsi, tendono a predare, tendono a creare problematiche, attualmente anche stanotte le tre polizie provinciali di Vicenza ad esempio, Vicenza, Treviso e Belluno stanno monitorando una situazione nel Trevigiano dove un lupo è sempre a ridosso delle abitazioni, quindi queste sono quelle che abbiamo fatto, Belluno l'anno scorso era sempre praticamente operativa questa autorizzazione del Ministero per sparare i pallini di gomma, quindi non è una nostra decisione ma noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione al Ministero, il Ministero chiede il parere a Ispra e nel caso positivo ci dà o meno le autorizzazioni, qualche governo hanno passato addirittura ce l'ha negata nonostante appunto l'evidenza, quindi vedete non è anche per noi semplice poter lavorare, quindi questi sono alcuni titoli di articoli di giornale che sono apparsi sulla stampa. Allora, quindi queste sono alcune attività che come al giorno del vendito facciamo, sostanzialmente non solo il tema della gestione dei lupi confidenti ma anche tutta una serie di cose, adesso cercherò ovviamente di andare un po' più veloce, però sostanzialmente è un tema a cui ci tengo, ci tengo particolarmente perché comunque la tutela delle nostre malghe, in Veneto ne abbiamo oltre 700 malghe, abbiamo veramente un patrimonio da tutelare, non solo turistico, non solo gastronomico, ma è veramente fondamentale porre alcuni elementi importanti. Questo è l'accordo che è stato firmato proprio qui da voi a novembre dello scorso anno, sono riuscito fortunatamente a scrivere un progetto per la valorizzazione e la tutela delle nostre malghe implementando anche alcune attività che sono legate alla presenza dell'animale e diciamo così scrivendo questo progetto che ha tre obiettivi, la valorizzazione delle malghe, la sperimentazione di nuovi metodi per diminuire il più possibile le predazioni da lupo e anche formare i nostri malghesi. Oltre a questo ovviamente scade domani il bando PSR per l'aspetto legato all'acquisto degli strumenti di prevenzione, ok? So benissimo com'è la situazione in Lessinia e quindi diciamo tutte le reti di recinzione ma ovviamente questo sulle malghe sappiamo bene che non è applicabile. Nella nuova programmazione del PSR ho cercato di inserire, mi sono battuto veramente, per inserire alcuni elementi importanti che mancavano. Non sono riuscito a inserire tutto per ragioni, insomma la burocrazia è molto difficile anche per noi, però la possibilità ad esempio abbiamo molti alpeggi soprattutto nel bellunese ad esempio anche qui in Lessinia che non hanno la casara, non hanno la malga perché o è diroccata. Ecco la possibilità col PSR di avere dei finanziamenti per creare le strutture abitative per i malghesi in modo tale che stiano il più vicino possibile ai loro animali, soprattutto durante le ore notturne, oltre alla sistemazione di pozze eccetera. Avevo chiesto anche la possibilità, ma questo non è passata, di finanziare l'aiuto malghese, ossia che il malghese possa avere una persona che custodisca i suoi animali e che faccia anche un pascolamento condotto. Questo purtroppo non è passata nel PSR, però è una cosa in cui ci tenevo particolarmente e soprattutto richieste dal territorio che andavano in questa direzione. sì sì. Ecco, allora i risarcimento sono dati da tabelle Arav, quindi ogni anno chiediamo a Arav quanto valgono i capi e quindi sono loro che ci danno i riferimenti, noi li ricepiamo tali e quali. Stiamo lavorando anche a livello europeo, che abbiamo dei disponenti europarlamentari, abbiamo inserito in alcuni documenti per la Commissione europea che vadano nella direzione della tutela, soprattutto delle malghe, perché il Veneto è una delle poche realtà a livello europeo che ha questo pascolamento brado o semibrado e quindi in certo senso devono essere supportati i nostri malghesi perché è una realtà veramente peculiare, che non c'è negli appennini e non c'è in altra parte d'Europa. Quindi è importante, quello che vi ho già detto prima, quindi abbiamo sensibilizzato la Commissione europea qualche mese fa proprio su questo tema. Vabbè, sono veramente proprio in chiusura, questo è il documento sostanzialmente che è stato presentato dalla Commissione europea e che è stato integrato da noi come Regione del Veneto. Sappiamo che la Commissione europea, e sto veramente chiudendo, ha fatto un passo in avanti, prima della chiusura, prima del voto dell'altro giorno, ha chiesto di diminuire il livello di protezione, quindi da particolarmente protetto a protetto, adesso l'Iter ovviamente è in corso, però sostanzialmente è importante capire che comunque spetterà sempre agli Stati membri, anche se arriviamo a essere protetto, spetta sempre agli Stati membri, ovviamente potete porre in atto proprio le strategie di gestione della specie. Ecco, quindi da parte mia sicuramente vi porto i saluti dell'assessore, ma da parte mia, da parte anche dei nostri uffici ovviamente c'è la massima disponibilità a tutela, ripeto, dei nostri allevatori. Ecco, se c'è da scrivere. Allora, siamo verso la conclusione, ricordo che poi potete fermarvi, c'è un bel buffet, possiamo parlare, continuare a parlare anche con le rappresentanze istituzionali, con i relatori, con i consiglieri che si sono alternati fino a questo momento. Era presente prima il neo-euro parlamentare Flavio Tosi che ha dovuto andare via, dicevamo varie rappresentanze a livello istituzionale, c'è la rappresentanza anche insomma del governo, c'è il senatore, presidente della commissione ambiente al Senato, Luca De Carlo, che invito qui per una riflessione su questo tema. Grazie, presidente di commissione agricoltura, perché se fossi il presidente della commissione ambiente avrei qualche responsabilità in quello che succede, invece è così. Noi siamo quelli che cercano di ridurre il numero, mentre quegli altri sono quelli che magari cercano di mantenere il numero. Beh, intanto grazie perché organizzare, e lo dico a Stefano, organizzare incontri come questo servono, servono nelle aree rurali dove noi dovremmo conoscere già la pericolosità del lupo, ma servirebbero ancora di più nelle città dove noi oggettivamente, noi inteso come opinione pubblica, fa più fatica a recepire cose che per noi sembrano manali, e cioè che assieme al benessere animale, su cui tutti dobbiamo sempre lavorare e i nostri agricoltori sanno quanta faccica si fa ad adempiere a tutte le prescrizioni, bisognerebbe che qualcuno ogni tanto si occupasse anche del benessere dell'uomo, perché se noi continuiamo a fare una serie di politiche costanti e continue che tutelano tutta la biodiversità del mondo, ad eccezione dell'uomo, noi credo che ci ritroveremo con un mondo privo dell'uomo e sicuramente non ritornato all'Eden e al Paradiso, ma un mondo che sa solo di abbandono, perché non è un caso che laddove l'uomo si ritiri, e penso alle malghe, penso alla montagna, faccio una premessa, io ho le vacche al pascolo, quindi di qualcosa di solidarietà con chi ha le predazioni, penso di poterlo dire, io ho 8 capi al pascolo 365 giorni all'anno e quindi conosco la materia e conosco le difficoltà di ciascuno di voi, ma se noi arretriamo rispetto alla conduzione delle malghe, conduzione dei pascoli, conduzione di un certo tipo di ruralità, tra l'altro, di un allevamento il più sostenibile del mondo, perché quando ci parlano di allevamenti intensivi e quant'altro, sono tutt'altra cosa rispetto a quello che abbiamo noi, con le vacche al pascolo per 6-5 mesi l'anno, tenute in stalla col fieno che si fa, con la finagione che facciamo noi, quindi assolutamente qualcosa di iperambientale. Tra l'altro, professore, io sono d'accordo con lei quando parla dell'humus e del prati pascoli diverso dal Bosco, tant'è che in questa legislatura, con prima firma mia, c'è un emendamento per consentire l'istituzione del registro dei crediti di carbonio che consentirà a allevatori e soprattutto malgari o chiunque comunque conduca un fondo di potersi veder riconosciuto un credito proprio per il fatto di svolgere quel tipo di attività e questo diventa, soprattutto nel momento in cui quest'anno abbiamo fatto fatica con i soldi di Aveppa e io sono stato uno di quelli, insieme a Stefano, che ha tirato le orecchie parecchio al precedente direttore ed è contentissimo e felicissimo che ci sia un direttore nuovo come Fabrizio Stella che almeno conosce i problemi della montagna. Ma sapendo che quanto si sono ridotti i contributi, soprattutto per la parte nord, e noi viviamo su questo lo stesso problema degli altoatesini, e ho avuto modo con il Ministro di spiegare che il contributo, l'intensità del contributo sui pascoli non può essere uguale in montagna dolomitica e in Lessigna come nella pianura padana, perché non ha senso, se noi diamo un contributo per riequilibrare noi dobbiamo darlo a chi mantiene un territorio che altrimenti se no andrebbe ovviamente in difficoltà. Ma questo si aggiungerebbe i crediti di carbonio proprio al fatto che sono volontari, cioè danno la possibilità di venderli ai grandi inquinatori. Faccio un esempio banale anche se molto più difficile, chi inquina tanto, faccio un esempio Lufthansa o Dita, può comprare, deve comprare, dovrà comprare i crediti di carbonio da chi invece dimostra di trattenere carbonio. I pascoli sono una delle aree, anzi sono l'area dove c'è più grande trattenimento di carbonio, perché? Perché noi, è evidente, l'ho spiegato prima nella relazione, noi se non continuiamo a mantenere la stessa superficie attraverso il pascolamento e lo sfalcio dove è possibile, noi vedremo un avanzare del bosco che non è l'avanzare della natura che torna al paradiso terrestre, è semplicemente incuria e in quelle incuria si annidano predatori, si annida comunque tutta quell'anti-economia che ci vede soccombere rispetto a una visione del mondo che è più vicino alla sindrome di Heidi che alla realtà, perché quando noi pensiamo che debbano vivere nelle montagne i lupi e gli orsi facciamo una mistificazione della realtà e soprattutto non ci rendiamo conto dell'impatto non solo ambientale, perché è stato descritto perfettamente, ma poi Berlato che ne ho eletto io approfitto per fargli i complimenti per la sua elezione perché l'ultima volta che ci siamo incontrati a parlare di lupi, qualcuno disse e mi ricordo una battuta stupenda di Berlato che qua non ci sono i nuovi e nessuno di questi sarà il nuovo eurodeputato, Berlato disse certo non escluderei il fatto che qualcuno invece lo diventi e Berlato lo è diventato anche grazie soprattutto alle tante battaglie condotte su questi temi che vedono riportare un po' di realtà e un po' di verità in un mondo dove la mistificazione e la falsificazione della realtà è diventata una cosa quasi oggettiva, cioè a forza di raccontare una bugia pensavamo tutti che la bugia sia la verità, in realtà la verità è quella che senza gli agricoltori non c'è tutela dell'ambiente e se non c'è tutela dell'ambiente ha voglia di voler ripopolare il lupo piuttosto che d'altro ma se non esiste la tutela di chi per primo fa agricoltura in montagna difficilmente riusciremo a tenere l'ambiente e soprattutto a garantire reddito anche a quelle famiglie, a quelli agricoltori che da sempre vivono la terra e ci salvano anche dal dissesto idrogeologico. Lo dico perché tutte le risorse che noi spendiamo nel cercare di contenere il lupo oppure nel cercare di pagare il lupo per quanto gli sforzi del dottor Pernecchere io lo apprezzo perché i suoi progetti vanno sempre nell'ottica di poter lenire una situazione di disagio che si crea Monte, la miglior purtroppo per fortuna la miglior risposta è ancora la piombite perché quelli che sono i lupi che sono troppo confidenti vanno semplicemente, va fatta una richiesta in deroga e vanno abbattuti non ci sono soluzioni intermedie altrimenti noi fingiamo di non vedere che in Francia dove ci sono un quinto dei lupi che abbiamo noi, probabilmente anche un sesto dei lupi che abbiamo noi fanno senza infrangere direttiva abita 150-200 battimenti l'anno. Non è possibile che invece in Italia con le stesse norme, con gli stessi criteri una politica ambientalista che finge di dare una mano agli agricoltori invece non abbia il coraggio di farlo. Voi direte, se ti Presidente della Commissione non sono mia amica, vero, ve lo dico, facciamo tanta fatica a far passare questi messaggi ma stiamo lavorando su questo. Io sono molto fiducioso che la nuova Commissione europea che verso la fine dell'anno un po' si è resa conto che stava sbagliando elettoralmente e un po' liberata da Timmermans oggi possa avere una visione diversa. Il peso si è spostato leggermente verso il centrodestra e noi siamo convinti che cominci a vincere il buonsenso, non gli abbattitori seriali come vorrebbero dipingerci. E quello è un grande lavoro che si deve fare a monte. Dopodiché è vero, compete tanto alle singole nazioni di declinare tutto ciò in azioni pratiche. Io credo che noi il piano lupi lo abbiamo cominciato a rifare perché quello che era del Ministro Costa, che ricordo essere lo stesso, che si è opposto alle richieste di deroga, quel piano lupo articolato, difficile, che era pessimo e che per fortuna la conferenza Stato-Regione non ha licenziato, o meglio ha mezzo licenziato ma è stato tenuto nel cassetto, oggi è in revisione. Secondo noi non era ancora congruo a quello che noi avremmo avuto bisogno per cui abbiamo fatto un ulteriore supplemento. Io capisco che il tempo uccide il gatto e spesso anche pecore ed animali, però io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare con questa consapevolezza e cioè che noi dobbiamo intervenire anche con quelle che qualcuno può pensare siano misure drastiche ma che noi troviamo essere le uniche misure che consentono il contenimento di una specie che io non credo si sia formata grazie all'amore di uno Jugoslavo e di una povera lupa in dispersione che veniva dall'Apennino perché questa, come non credo alla favola di Capuccetto Rosso, non me ne vogliano, non credo neanche al fatto che due si siano innamorati in Messinia per quanto assolutamente bella e amorevole sia quest'area, credo invece che ci sia qualcosa di diverso sotto e che qualcosa di diverso sotto abbia consentito a tanti, forse troppi, di poter guadagnare un sacco di soldi il tutto a discapito invece di quelle aziende che si sono viste magari ristorare ma che tutti quelli che fanno agricoltura sanno che non esiste un prezzo per la genetica che io ho selezionato. Non è che se tu mi dai la tabella Arab dice che quella vale 100 euro, la pecora che io ho con sacrificio selezionato valga quella, perché per me vale quella pecora che è frutto di tanta genetica, ecco io credo che non ci siano ristori che tengano ma il miglior ristoro sia quello di poter pascolare tranquillamente e vedersi riconosciuto il proprio lavoro senza tanti contributi e senza tanti ristori proprio grazie alla fatica della gente che si è sempre impegnata. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie senatore, allora dopo chiosa finale di nuovo del consigliere Valdegamberi abbiamo un rappresentante dell'Europarlamento quindi Sergio Berlato venga qui e l'ultimo intervento diciamo prima della chiosa finale diciamo è riservato a lei, prego. Grazie, grazie di graditissimo invito, grazie a Stefano Valdegamberi, vieni invito. Stefano quando mi ha invitato sapeva già che io non avrei fatto un intervento politicamente corretto quindi non c'è nessuna sorpresa su questo per dire. Allora è importante, è importante che smontiamo la narrazione che viene raccontata attorno ai lupi. C'è una narrazione falsa che qualcuno vorrebbe accreditare per convincere tutti noi che con il lupo si può convivere pacificamente e quindi dobbiamo accettare la presenza del lupo perché in fin dei conti i danni sono pochi e quindi possiamo accettare questa convivenza. Allora io sono anche il presidente, non solo un deputato italiano del Parlamento Europeo ma sono anche i presidenti di un'associazione culturale che si chiama l'associazione per la cultura rurale, questo è il logo, che mette insieme agricoltori, allevatori, pastori, cacciatori, pescatori, cercatori di funghi, tutti quelli che noi definiamo come portatori della cultura rurale. Con la nostra associazione raccogliamo dati, informazioni, dati e testimonianze in modo tale da poter combattere per garantire un futuro dignitoso alle nostre attività, a tutte le attività portatrici della cultura rurale. La prima narrazione, il lupo è presente in Italia spontaneamente o spintaneamente? Allora, questo 1970, non parto da lontano, ma per dirvi da dove siamo, progetto San Francesco, un progetto che è stato ideato da WWF Italia e dal Parco Nazionale d'Abruzzo. Questo progetto si prefigge l'obiettivo di far tornare, di favorire il ritorno del lupo sul territorio nazionale, 1970. Risorse pubbliche da utilizzare per arrivare a cogliere questo obiettivo. Allora, noi siamo andati a raccogliere, per vedere se la presenza del lupo in Italia è spontanea o spintanea, siamo andati a raccogliere una testimonianza che ci è stata data direttamente dal già presidente nazionale WWF Italia, Fulco Pratesi, che è intervistato da Dago Spia, che è un'importante agenzia di informazione a livello nazionale. Questo è l'intervista, 11 aprile 2021. L'intervistatore fa una serie di domande a Fulco Pratesi e gli fa una domanda anche sul cervo sardo. Gli chiede l'intervistatore, lo avete riportato voi del WWF? Risposta virgolettata, sì come il lupo. Pensi che nel 1970, progetto San Francesco, ce ne erano solo 100 esemplari e adesso quasi 2000. Abbiamo fatto battaglie per l'osso abruzzese. Il presidente nazionale del WWF Italia afferma che il lupo lo hanno riportati loro. Mi limito a leggere questa intervista virgolettata. Prima narrazione quindi, la narrazione secondo la quale si sono incontrati questi due innamorati Slovak, quello che erano le Alpi nord orientali, la Slovenia. E Giulietta, perché attenzione, vogliono sempre umanizzare gli animali alla Walt Disney per rendere più accettabile la loro presenza. Umanizzare. Quindi Giulietta che si incontra con Slovak, Romeo, si incontra in Nessinia e in pochissimi anni, stiamo parlando di lupi, non di tori da monta, in pochissimi anni impestano tutto l'arco alpino nord orientale e non solo di lupi. Pensate che tipo di capacità riproduttiva hanno questi. Ma se è vero quello che ci dice il presidente nazionale del WWF non è stato Slovak e Giulietta a fare in modo da prevedere questa presenza enorme di lupi sul nostro territorio. Allora, prima narrazione, quindi l'abbiamo smontata. Seconda narrazione. Ma tutti coloro che dicono di essere innamorati dei lupi, sono veramente innamorati dei lupi o sono innamorati dei tanti soldi che ci sono dietro ai lupi? Punto di domanda. Da deputato italiano e Parlamento europeo mi sono fatto fornire la documentazione ufficiale da parte della Commissione europea. Sapete che ci sono dei programmi comunitari per attingere i quali poi si presentano dei progetti sulla base di determinate linee guida. Allora, guardate, il lupo, Life Mirco, dal 2015 al 2020, progetto che ha come obiettivo la conservazione del lupo in Italia riducendo l'impatto del randagismo canino al fine di limitare l'ibridazione antropogenica. Totale budget 2.885.921. Life Wild Wolf sarebbe il lupo salvaggio. Budget 7.028.148. Contributo Unione europea 5.265.000. Life Wolf il prima tranche di 5 anni, budget 2013-2018, 6.100.454.000 di cui un contributo comunitario di 4.174.000. Poi un'altra tranche di quinquennale, budget 11.939.693 con un contributo è di 7.028.000. Stessa roba per l'orso, stessa roba per le altre. Quindi, questi sono programmi comunitari messi a disposizione della Commissione europea, compresi i soldi, ai quali si può attingere presentando dei progetti. In questo caso i progetti sono i progetti LIFE, quindi un programma comunitario che si chiama LIFE, si presentano dei progetti, normalmente questi progetti vengono presentati da ben noti soggetti e quindi si attinge a questa grande quantità di risorse pubbliche, gran parte delle quali non viene utilizzato come è successo per i fondi per l'orso con l'amministrazione provinciale di Trento che è andata a comprare con questi soldi gli orsi in Slovenia che ha liberato in Trentino. No, in minima parte vengono appresi gli animali e spostati. In larghissima misura questi soldi vengono utilizzati, stavo per dire mangiati ma non posso dirlo, vengono utilizzati in consulenze, studi, in una serie di convegni attraverso del genere, vengono comunicazioni e quant'altro attraverso le quali comunicazioni ci vengono a raccontare che la convivenza con il lupo è possibile perché in fin dei conti il lupo è un animale mansueto che da più di 150 anni non aggredisce l'uomo, quindi oramai questo lupo che è mansueto non è più un pericolo, quindi dobbiamo imparare a convivere. Anzi, se non è possibile la convivenza tra il lupo e le attività umane tipo allevamento, pastorizia, agricoltura, se ne deve andare l'uomo perché ci raccontano che è stato l'uomo ad andare ad occupare il terreno, il territorio dei grandi carnivori del lupo. Quindi il lupo non fa altro adesso che andare a recuperare, a riappropriarsi del territorio che era suo e che i cattivoni dei pastori, degli agricoltori e degli allevatori sono andati a portargli via il territorio. Quindi a fronte di una constatazione che non sempre c'è possibilità di convivenza tra il lupo e le attività antropiche, allevamento, agricoltura, ti dicono se non c'è possibilità di convivenza che se ne vadano gli usurpatori, cioè di esseri umani, perché il territorio è del lupo, non è il territorio degli esseri umani, la narrazione animale ambientalista. Altra narrazione, quindi abbiamo visto che molti di coloro che raggiungono l'orgasmo vedendo o parlando di lupi, in realtà sono eccitati dalle grandi quantità di risorse finanziarie, questa grande mangiatoia dentro la quale affondano il grugno molti soggetti all'insaputa dell'opinione pubblica. Quindi seconda narrazione che smontiamo, terza narrazione, abbiamo sentito anche dal rappresentante a ragione Vento che non ha colpe, il funzionario Carnè che è una brava persona, che è qui in rappresentanza dell'assessore, ovviamente ha approfitto, dato che è qui, dica all'assessore regionale che anche quest'anno ha fatto un calendario venatorio indecente, glielo dica pure, glielo dirò io sulla stampa domani, però tanto per dire come stanno le cose, che è ora che cominci a fare bene il suo mestiere, cosa che non ha ancora imparato a fare, visto il modo in cui fa i provvedimenti, lo dico responsabile di quello che dico. Allora in base a questo tipo di ragionamento basta che la convivenza è possibile, basta che i nostri allevatori si dotino delle recinzioni fornite da Regione Veneto con i soldi di Life Wolf Alps e che si dotino dei cani della guardiania. Quindi il problema è risolto perché dicono gli amanti del lupo, dicono, e coloro che affondano il gruio nella mangiatoia, dicono che basta le reti da recinzione e prendere i cani dei guardiani, il problema è risolto. Guardate, le reti da recinzione sono queste, no? Sono queste, alte un metro e venti, un metro e dieci. Allora, questi sono i reti da recinzione che dovranno salvare i nostri allevamenti. Adesso vi faccio vedere, perdonate, vi chiedo i 10 minuti di tempo, forse anche 5. Vi faccio vedere due cose. Per capire cosa se ne fa il lupo delle recinzioni fornite dall'ente pubblico pagate con i soldi pubblici di Life Wolf Alps. Guardate. Questa è una recinzione alta più di 4 metri. Quello lì non è Messner, quello lì è un lupo. Tanto per rispondere a quello lì in fondo che prima diceva che le nostre sono balle. Adesso guardi, lei che ha detto che sono balle, guardi e contesti i documenti che ho mostrato e contesti questi filmati. Quello è uno, ma quello lì era, non è giusto prendere ad esempio un lupo atleta e questo l'abbiamo già visto. Adesso ne possiamo vedere degli altri. Allora, guardate. Guardate. Una recinzione più alta di 2 metri. Le recinzioni fornite da Life Wolf Alps sono alte 1,20 m. Guardate. Avete visto un altro lupo atleta? No, c'è un altro fratello. Un lupo atleta fratello che salta il muro di 2 metri. Questo è un lupo con un agnello in bocca. Con un agnello in bocca. Salta una recinzione di 2 metri senza toccarla. Con un agnello in bocca. Questo addirittura con il filo spinato sopra. Due minuti di passione. ve ne facciamo vedere alcuni, ma ne abbiamo centinaia di questi documenti. Vedete? Guardate questo. Guardate. Guardate. In salita. Attenzione. Sta salendo una scarpata. È in salita. Quindi come la raccontiamo adesso che basta la recinzione alta 1,20 m per salvare il nostro bestiame? Spesso le recinzioni che ci vengono fornite sono una trappola per il nostro bestiame. Per quale motivo? Uno perché il lupo, avete visto con quanta facilità lo salta. Due perché il lupo nella sua tecnica di caccia comincia a spaventare gli animali e sono gli animali terrorizzati che abbattono la recinzione e poi i lupi vanno lì in branco a predarli. Quindi la narrazione secondo la quale per avere la convivenza basta mettere le recinzioni è una narrazione falsa. Facilmente dimostrabile. Falsa. I cani da guardiania. I cani da guardiania che dovrebbero essere a salvezza di nostri allevamenti. I cani da guardiania che sono cagnoni grandi così. Vedete? Questo è un opuscolo che viene distribuito dalla regione del Daneto utilizzando i soldi Life Wolf Alps per insegnare alle persone come comportarsi non se incontrano il lupo ma come comportarsi se incontrano i cani da guardiania. Perché i cani da guardiania che è allevato selezionato geneticamente per proteggere il bestiame da qualsiasi tipo di pericolo. I cani da guardiania se vede in una famiglia di turisti che si avvicina al Grezze per andare ad accarezzare a un agnellino. Se vede in questo un pericolo il cani da guardiania ve magna. Vi aggredisce. Per assurdo il cani da guardiania è molto più pericoloso per le persone che non il lupo. Per assurdo. Quindi qui sto a leggere cosa scrivono su sta roba qua e vi insegnano come fare e come comportarvi. Questo è quanto. Quindi la narrazione secondo la quale bastano le reti cani da guardiania per risolvere il problema è una narrazione falsa. Ah voglio per inciso. Non è che l'ente pubblico utilizzando i soldi Life Wolf Alps rimborsa i nostri allevatori dei danni patiti ma li indennizza che è una cosa diversa. Rimborso io danno 100 mi danno 100. Sia per i danni diretti che i danni indiretti. Se un Grezze di 100 pecore e un branco di lupi attacca le mie pecore magari ne ammazza 8 o 10 ma le altre 90 si buttano giù per un dirupo e si ammassano tutte chi è che me le paga quelle quelle e quelle. E in più c'è una riduzione negli ultimi periodi una riduzione delle denunce delle aggressioni. I lupi hanno incominciato a vivere e convivere con noi. No balle. Sapete perché c'è la riduzione delle denunce? Perché quel povero malcapitato che si trova davvero in montagna una vacca sbranata dai lupi cosa deve fare? Una volta che l'ha denunciata poi oltre all'indennizzo che solo una parte del danno subito si deve provvedere alla carcassa con i soldi suoi. Quindi l'indennizzo che riceve è un quinto rispetto al danno che lui riceve calcolando anche il fatto che deve pagarsi lo smaltimento della carcassa. E quindi più di qualcuno che ha la predazione preferisce sotterrare l'animale e non dire niente a nessuno perché altrimenti oltre al danno c'è anche la beffa. Tanto per essere chiari fino in fondo. Finisco per dire sulla questione della narrazione. La narrazione che ci racconta, scusate io attraverso la nostra questione abbiamo migliaia di documentazioni, vi facciamo vedere, visti anche i tempi non posso abusare dell'ospitalità. La narrazione secondo la quale, prima abbiamo avuto qualche esempio, secondo la quale il lupo non attacca l'uomo. Il lupo è l'animale mansueto. Abbiamo raccolto tra le tante testimonianze quella lì che era stata accennata prima di Vasto, una famiglia, una famigliola che era in spiaggia, no in mezzo al bosco ad andare a sfarfuliare la tana del lupo, no, era in spiaggia, papà, mamma e due bambine. Abbiamo fatto un incontro anche a Vasto, lo facciamo in tutta Italia, per dimostrare. Abbiamo raccolto la testimonianza di quel povero papà che si è trovato in quella. Vi chiedo due minuti per ascoltarla, per capire la narrazione secondo la quale sono 150 anni che il lupo non attacca le persone, narrazione falsa. Attenzione. Siamo di attacchi di lupo. Qui a Vasto, 7 maggio, poco più di un mese fa sulla spiaggia, erano le 8 di sera, c'era gente, un padre con una madre e due bambini, due bambine, anzi due femminicce, la bambina è stata aggredita da un lupo. Noi qui abbiamo il padre che invitiamo ad avvicinarsi, Giampaolo Natale. Vieni Giampaolo, l'avrete già visto, è stato anche alla vita in diretta, è stato invitato. C'erano anche i nostri due relatori di oggi, come vedete. È stata dura. Allora Giampaolo, vieni qui al centro, tanto credo che non abbiamo più niente dietro qua. Come è andato? Intanto brevemente l'attacco, la storia, proprio com'è? Sì, stavo con mia moglie, abbiamo due femminucce, stavamo sulla spiaggia, proprio sul bagnasciuga a due o tre metri dall'acqua, per capirci. Stavo facendo una passeggiata e stavo guardando la bambina più piccola perché a un anno stava facendo i primi passi e quindi la incoraggiavo a camminare sulla sabbia e all'improvviso con la coda dell'occhio ho visto l'altra mia figlia che stava dietro di me, che ha quattro anni e ho visto quest'animale che le stava saltando addosso e ho cercato in tutti i modi subito di prendere mia figlia e l'ho presa, però ho visto che quest'animale che all'inizio pensavo fosse un cane ha continuato ad attaccarci, quindi mentre io avevo mia figlia in braccio lui continuava a venire contro di noi ed era più agile di noi, quindi sono caduto a terra purtroppo, ho perso l'equilibrio e sono caduto a terra e quindi nel momento in cui sono caduto questo animale ha iniziato a mordere la schiena di mia figlia, mia figlia ha iniziato a urlare, ha iniziato a piangere, ho cercato di riprenderla però di nuovo ha avuto un secondo morso sulla parte inferiore della schiena e a quel punto mi sono alzato e ho tirato due calci a questo animale, stava mia moglie, ho gridato, ho detto non è un cane assolutamente perché continuava a venire in un modo molto aggressivo. E non è finita qua perché quando l'avete allontanato voi è andato a una coppia accanto con altri bambini. Esatto, io l'avevo visti perché erano passati davanti a noi proprio 30 secondi prima, li ho visti perché in modo particolare perché ho riconosciuto, ho visto che lei aveva questo shador diciamo che portano di solito le donne musulmane e a 50 metri stavano ormai da noi e subito questo lupo è corso verso il bambino di questa coppia, lei era incinta e si è gettata a terra perché ha visto che questo animale stava aggredendo il figlio che aveva tre anni e mezzo e il padre ha cercato anche lì di tirare il bambino da questo attacco. La differenza è stata che mentre con quel bambino ci sono state solo abrasioni, non è riuscito a penetrare con i denti, a mia figlia purtroppo i denti sono penetrati nella schiena. La bambina è terrorizzata da qualsiasi tipo di animale. La bambina adesso ha subito un trauma di natura psicologica, ha salvato la vita per fortuna, ma qualsiasi animale è terrorizzata, non entra neanche più con i piedi nell'acqua perché ha paura dei pesciorini e quant'altro. Quella lì rimarrà per tutta la vita terrorizzata da questa aggressione. Cosa facciamo? La conclusione. Cosa facciamo? Avete già sentito a livello europeo, noi voteremo a novembre la riduzione, verrà votata presso gli istituti comunitarie, verrà votata la riduzione del livello di protezione del lupo che attualmente è collocato nell'allegato 2 della convenzione di Berna. Questo vedete è l'allegato 2, convenzione di Berna, specie rigorosamente protette, canis lupus. Noi stiamo spostando dall'allegato 2, specie rigorosamente protette, all'allegato 3 per fare in modo che diventi una specie solo protetta e questo consentirà a tutti gli Stati membri di poter applicare con maggior facilità l'articolo 16 della direttiva Habitat che è quell'articolo che consente a tutti gli Stati membri di potersi dotare e applicare anche attraverso le regioni e le province autonome, di poter applicare piani nazionali di gestione di contenimento che prevedono il monitoraggio del territorio, il censimento delle specie, la definizione a livello scientifico di quanti lupici possono essere un territorio soprattutto se fortemente antropizzato e una volta definito il livello massimo tutti i lupi in esubero devono essere abbattuti, piombite, devono essere abbattuti, non sterilizzati come qualche ignorantone dice, qualcuno dice sterilizziamoli, no sterilizziamo, io ho fatto un intervento al Parlamento Europeo dicendo ma quelli che propongono di sterilizzarli, anche in Regione Veneto, di sterilizzare i lupi e rilasciarli, una volta che hai preso un lupo dopo tutti i costi perché bisogna spendere milioni di euro, studi, l'impatto psicologico sul lupo che viene sterilizzato, il psicologo, tutta una serie di cose del genere, una volta che lo hai sterilizzato e rilasciato sul territorio, quel lupo diventa vegano o continua a mangiare i nostri animali? Tanto per fare una domanda fino in fondo, quindi piani nazionali di gestione di contenimento che prevedono l'abbattimento, è l'unica strada per garantire una compatibilità tra le varie specie di fano salvatica e una compatibilità tra la presenza delle attività umane, allevamento, pastorizia, agricoltura con la presenza di questi animali, o si agisce subito in questa direzione oppure i nostri territori saranno abbandonati da coloro che hanno sempre garantito la manutenzione, perché l'ambientalismo bisogna limitarsi a predicarlo, bisogna praticarlo e chi meglio dei nostri allevatori, dei nostri pastori, dei nostri agricoltori garantiscono la manutenzione del territorio dell'ambiente, altro che gli ambientalisti che si limitano unicamente a mettere un orsetto bicolore sull'unotto della macchina e si dicono ambientalisti. Provate a dire adesso che sono bugie le nostre oppure che questi documenti che ho fatto vedere sono falsi. Grazie della vostra attenzione. Grazie onorevole, come per una network però sulle affermazioni all'assessore mi devo dissociare nel senso che giustamente da europarlamentare può... Allora ribadisco il messaggio che ho affidato al rappresentante della regione, ma ho specificato che lui non c'entra nulla, è un funzionario, ho detto al funzionario di riferire l'assessore che per l'ennesimo anno la regione del Veneto ha fatto un calendario venatorio che è indecente. Grazie. Poi c'è da dire anche però che abbiamo visto tanti soldi per World Health Alps eccetera, però la PAC dà circa 7,5 miliardi all'anno anche all'agricoltura, quindi è importante ricordare che ci sono altre risorse a favore anche dell'agricoltura in generale. Consigliere, a lei la conclusione perché c'è una proposta di legge, una regionale. Allora, innanzitutto questa sera abbiamo avuto per la prima volta, penso, una serie di relazioni molto chiare che dicono cose che si tendono a nascondere e non far sapere. Abbiamo avuto una relazione storica che dice cosa è stato il lupo nel passato, cosa ha significato anche in perdite di vite umane, quando il lupo c'era ed era molto diffuso. Abbiamo visto le conseguenze e anche le bugie che spesso vengono raccontate sull'impatto, sull'ecosistema, sull'ambiente, che il lupo è necessario perché se no, altrimenti per tutte e mille di ideologia ambientale, che il professore ha spiegato molto bene, abbiamo anche capito che la soluzione vera è quella che da sempre io stesso ho sostenuto, che ci vuole una misura. Il lupo ha ragione di esistere, è un animale che deve esistere, però entro certi limiti, certi numeri e questo passaggio purtroppo non è mai stato capito né dal punto di vista culturalmente dalla società perché è imbevuta di messaggi antitetici che ogni volta che si tende a mettere un pur minimo limite si sollevano in media, gente dello spettacolo, televisioni, c'è tutto il mondo contro perché bisogna tutta una campagna pressante che tende a dire il lupo è intoccabile e va lasciato con me, il lupo deve riconquistare i luoghi dove era, come se il lupo in città non ci fosse mai stato, noi viaggiamo la cronaca del 200 e del 300, i lupi erano alle porte delle città, andavano nelle città ed erano un pericolo per la città, ma secondo alcuni il lupo deve rimanere nel montagna e noi della montagna dovrebbero andarcene per lasciare spazio al suo luogo naturale. Queste sono bagianate, frutto di ideologia, che fanno del male all'ambiente stesso, fanno del male all'economia, fanno del male alla società e creano un pericolo ai cittadini. Ora, prima che succedano quei fatti di vasto o altri fatti, perché è solo questione di tempo, ne stanno succedendo già in Francia, sulle Alpi, hanno trovato un morto molto sospetto, la testa di un bambino mancava il corpo, è classico, da me sono arrivati i lupi il giorno dell'epifania, sotto la finestra della camera, hanno sgozzato una pecora, ti lasciano solo la testa, il resto la mangiano, è classico del lupo lasciare solo la testa e mangiarsi il resto. La notte dopo sono tornati, è pesante, la carcassa l'ha trascinata 50 metri in salita, quindi per dire la forza che hanno, se questi prendono un bambino, prendono qualsiasi bambino che si trova da solo a passeggio con i nonni, questo qua, veramente il rischio c'è, è inutile far finta che non esiste, tant'è che negli altri paesi abbiamo visto qualcosa di concreto, nonostante la direttiva Habitat molto restrittiva, hanno applicato l'articolo 16, ma soprattutto hanno applicato il buon senso. Il tema della sicurezza è un tema importante, come è stato detto, è la competenza dei sindaci, il primo responsabile, ma non solo del sindaco, dei presidenti delle zone, lo Stato deve garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, non è possibile che si vada a passeggio e ti trovi di fronte a un branco di lupi o vai fuori di casa la sera e sotto l'angolo ti trovi un lupo, occorre metterci un limite, il lupo deve perdere l'abitudine di stare vicino alle case, va educato a stare nei boschi, lontano quantomeno e quindi cosa abbiamo fatto per questo? Io ho preparato un disegno di legge statale che lo consegnerò, magari l'avrete già visto, so che De Carlo l'abbiamo già parlato, l'ha già visto, lo lascio che aver lato, questo è frutto, è già due anni che è stato fatto, due anni fa, è molto semplice e prevede che qualora è rivolto non parla dell'aspetto sicurezza, parla dell'aspetto più che altro agricolo, dove avvengono reiterati, temporalmente reiterati attacchi degli animali, del lupo sugli animali allevati, dove si ripetono questi attacchi c'è la possibilità di intervenire a rimuovere quel lupo, quei lupi che fanno quell'attacco specifico nello stesso luogo, cioè quando in un luogo vengono ripetutamente abbattute gli animali c'è la possibilità di abbattere il lupo, non è un tabù questo, è natura, è natura creare equilibrio, è natura anche abbattere il lupo, è natura come è natura che il lupo abbatta la pecore, cioè non possiamo vedere natura solo da una parte e non dall'altra, l'uomo è l'unico predatore del lupo, quindi deve fare la propria azione di riequilibrio e quindi ove il danno sia riconducibile a un singolo esemplare o si opri in regime di connessione spaziale, immediatezza temporale rispetto con il danno accertato, questo si procede automaticamente all'abbattimento, non c'è bisogno, viene comunicato questo abbattimento allo Stato, all'ISPRA, viene comunicato, è la regione che comunque stabilisce come con guardie venatorie, con personale qualificato eccetera, è la regione che procede per l'abbattimento, comunica allo Stato e sarà lo Stato che ha il conteggio dei lupi e dirà guarda che stanno per estinguersi, basta, non c'è più l'onere approva, aspetta lo Stato e non viene ribaltato, perché se noi chiediamo l'autorizzazione alla deroga all'ISPRA, oggi fino adesso ne hanno autorizzato nemmeno uno, oggi c'è l'ideologia che è entrata in questi organismi delegati ai ministeri, rende il lupo nemmeno applicabile all'articolo 16 della deroga europea, c'è una deroga anche nella iperprotezione della direttiva habitat, ma mentre in Spagna, in Svezia, in Norvegia, in Austria, in Svizzera, in Germania si applica questa deroga, in Italia non si è mai, mai applicata, ecco qui sta la differenza, eppure abbiamo sentito prima i numeri di lupi che abbiamo noi, che fanno la somma di molti di quegli altri paesi, ecco è un'azione culturale, è un'azione, non c'è da aver paura, la politica non deve aver paura, ecco perché ho chiamato i politici qui che stasera, perché la politica deve avere l'accoraggio di dire, di fare un'operazione come stasera di verità ai cittadini, dire le cose come stanno, non paura di perdere voti, di essere attaccati dai media, vanno rieducati e si deve spiegare le cose, si deve dire perché un domani ci rimettiamo tutti e magari qualcuno di noi che è convinto di fare del bene, fare questo buonismo per il lupo, non potrà più andare a passeggiare nel futuro, vi assicuro, poi se mettiamo i mare in mani, sono d'accordo con Berlato, i mare in mani, se dovessimo proteggere i nostri gregi con i mare in mani, come qualcuno mi viene a spiegare ogni volta, non andreste più a fare scampagnate le sinia, vi assicuro, se vedeste i mare in mani ovunque, state a casa vostra perché nelle sinia non ci andate, ve lo assicuro perché hanno credito, sono pronti a difendere ad oltranza i gregi, è meglio che non li mettano i mare in mani, se vogliamo salvare la nostra montagna, l'unica cosa, e concludo, è quella di riportare un numero adeguato, abbassare il numero, portare al numero di lupi che sia compatibile, il resto si accetterà il danno, si accetterà la prestazione, può essere 10, 15, 20 all'anno, ma non 200, 300, 400, perché oggi siamo a numeri impressionanti e quelli che vengono ufficialmente dichiarati sono meno della metà di quelli effettivi, perché io parlo con tante persone per mille problemi, poi c'è il ricatto di quelli che dicono, lo mettiamo canide perché se no sai, c'è l'etamaio che non funziona bene, c'è altra cosa che non va, io sento, vengono da me gli allevatori, si confessano, hanno paura, c'è il terrore di questa forma di ricatto che tu non devi dichiarare per sottostimare il fenomeno, sottostimare il fenomeno è spaventando la gente, ora di finirla, chi subisce di queste vessazioni, ditemelo, non abbiate paura, perché non devono esistere, quel funzionario lì va licenziato, se uno sento di uno che ha fatto dichiarare una cosa per un'altra, sotto ricatto sono io a denunciarlo, sono io a denunciarlo, perché non è possibile, dobbiamo avere il coraggio, il coraggio di fare norme e quindi l'appello è allo Stato, all'Europa, alla Regione, a tutti, a me stesso, perché noi dobbiamo veramente uscire allo scoperto e finirla di, questa sera per parlare di lupi, molti hanno ricusato con mille motivi l'invito, alcuni era giustificato, altri forse meno, perché parlare di lupi è un argomento ostico, si diventa impopolari, non si guadagna consenso, perché è meglio dire che siamo tutti a favore, tutto è meglio credere alle favole, ma credo che una politica seria e sana non è una politica che segue le ideologie, segue le favole e la politica deve guardare i fatti così come sono e dire la verità alle persone, solo in questo modo solleviamo questo Paese, altrimenti di fronte a questo problema e a tanti altri problemi, rincorre l'ideologia e le favole, significa non fare il bene ma il male della gente. Beh, allora, abbiamo superato abbondantemente, no, quasi, le due ore di convegno, no, più o meno, però c'è ancora tutta la gente, quindi vuol dire che... Un saluto, un ringraziamento, perché questa sera avremmo voluto anche lasciare la parola anche a voi, ma comunque i tempi sono lunghi. Ringrazio, a partire dal nuovo Presidente del Parco del Signia, Massimo Sauro, vieni qua un secondo, dai fate un applauso. Volevo che poi, oltre che ringraziare, che abbiamo già fatto, i miei colleghi consiglieri regionali, Corsi, che poi hanno dovuto scappare via, è passato anche Bozza e Contosi, che ovviamente tutti questa sera hanno i loro impegni, ma sono venuti a fare un giro, quindi vanno che ringraziati, dimostrando la loro presenza. Volevo ringraziare poi, per quanto riguarda la Presidenza dello Stato, l'amico De Carlo, che viene da Belluno, da lontano, ma so quanto ci tiene su questi temi, e grazie per l'intervento, così pure come l'amico ex consigliere regionale europarlamentare Berlato, che lo quale è veramente uno showman, è bravissimo, è grande comunicatore, è sempre attento a queste tematiche, oltre che responsabile della regione. Ringrazio il Presidente Comunale, che vedo da diverse parti qui della Lessinia, partite da Rovere, Badia Calavena, c'era Melotti di Bosco, c'è Sant'Anna, ne ho letto il Sindaco di Sant'Anna, so se ci sia ancora, Campostrini, poi chi c'era altro, qua gli amministratori, Cappelletti che poi è andato via, insomma ci sono passati diversi amministratori, se mi dimentico qualcuno, lo do per... beh, padrono di casa, qui ho davanti il Sindaco di Grezzana, Alberti, ecco, ringrazio poi tutti voi, gli allevatori che hanno pur dovendo mungere le vacche da velo e dintorni sono scesi qua, tutti i cittadini poi convenuti, credo che mi auguro che questa serata sia servita ad avere un po' più le idee chiare, a rimuoverci dalla testa molte ideologie, molti racconti che ne sono delle falsità, delle bugie, perché dobbiamo avere il coraggio di supportare anche la politica, perché la politica deve avere il coraggio di fare le scelte che devono essere fatte e non semplicemente spaventarsi per la paura di affrontare questo tema. Grazie a tutti, adesso c'è Rinfresco che lascio a voi la parola. Ringrazio anche i rappresentanti delle associazioni, scusate perché qua che volevo li ho invitati, sono associazioni sia agricole, ho visto del Copagri, mi pareva prima, per la col direttima dove erano delegato Sauro, ma vedevo anche i responsabili anche delle associazioni di quelle che si sono sempre occupate per l'ambiente, per il lupo in Lesinia, serve a guardia rurale, ecco abbiamo la sua Presidente qui. Grazie a tutti, di nuovo passo la parola. C'è un buffet adesso, Presidente, 30 secondi, insomma neoeletto, quindi un saluto al pubblico. Intanto ringrazio per l'invito, ringrazio chi ha organizzato questo momento, era un bel po' che non se ne parlava, chi mi conosce sa che è da 2012 in vari incarichi che seguo questa problematica, se ne parla da 12 anni e la situazione la conosciamo bene, come diceva Stefano guardiamo al domani e teniamo presente che il domani è oggi, perché le nostre aziende sono in difficoltà già oggi, domani mattina. Abbiamo capito che il problema si risolve a livelli più alti, per cui siamo nelle vostre mani, noi come Parco, come l'altro giorno ci siamo confrontati anche con il dottor Pernechele, ci mettiamo a disposizione come ente regionale presente sul territorio, quello che possiamo fare ci siamo, per cui siamo nelle vostre mani, ma ripeto è urgente perché serve domani mattina. Bene, l'incontro allora è terminato.